Il caffè al banco si può consumare senza esibire il Green Pass, normale o rafforzato che sia. È stato il prefetto Annunziato Vardè a chiarire uno dei punti ancora controversi delle nuove misure antipandemia nella prima giornata di Zona Gialla e Super Green Pass in Friuli Venezia Giulia. Vengono dunque confermate le disposizioni già previste per la Zona Gialla. Ci siamo organizzati in modo tale che i nostri ragazzi all'entrata sappiano bene cosa devono richiedere e quando devono richiederlo. Per quanto riguarda le sedute all'esterno per il banco non ci sono state specificazioni da porta del governo, dunque rimane tutto invariato. Per quanto riguarda le sedute all'interno è necessario il Super Green Pass. L'unica difficoltà che abbiamo riscontrato è dovuta al fatto che l'applicazione Verifica C19 non è ancora stata aggiornata. Prevediamo che venga aggiornata entro la settimana prossima in quanto tutta la nazione dovrà utilizzarla. Gli operatori della ristorazione e dei locali intanto si dividono. C'è chi teme di perdere una parte della clientela in un periodo strategico come le feste natalizie e chi accoglie di buon grado i provvedimenti che permettono perlomeno di tenere aperte le attività. Siamo i primi, stiamo entrando una settimana in anticipo rispetto all'arresto della nazione, ma siamo contenti di questa iniziativa da parte della regione perché ci permette di continuare la nostra attività.